e ad un certo punto ho sentito che la stufa truma continuava in poche parole a fare quel ticchettio tttttttttttttttt non è finita la bombola niente col freddo della notte scendiamo e se la cambiamo bella vita vorrei questa bella serata abbiamo già smontato la bombola una sta per terra montiamo quella e via mamma mia fanno due gradi e via ragazzo bombole rimontate ora ho rimesso quest'altra e via ora vediamo se funziona mamma mia abbastanza freddino abbastanza ora vediamo se mi riparte così almeno vedete pure come funziona magari per qualcuno che invece ho questo modello di troma qui e poi però questo qui c'è questo timer cioè timer vabbè da 1 a 10 sarebbero la potenza insomma quanto non volete calda oddio allora giriamo pedal gas sentite ticchettivo si spinge ecco e poi si rilascia dovrebbe essere partita la mettiamo a 5 gli diamo una bella una bella bomba e via pure questa è fatta regà regà per chi vive in camper purtroppo queste sono situazioni da mette da mette in conto io ho avuto la fortuna che magari vediamo tardanotte che fai che fai mettite giù scendi rivestite vai a cambiare la bombola perciò vabbè dai mi ha detto culo che c'avevo quell'altra di riserva la bombola di riserva fatela sempre portatevala sempre se potete se no c'è se non c'avete spazio esistono dei bombolini che vi portate dietro per le emergenze piccolino io ho due belle bombole vabbè regà è successo ma questa pure l'andrò a far andrò a far ricaricare e via se leviamo pure sto pensiero vedete mo pensavo di trovarlo bello gallo invece niente sono ritornato e c'avevo il camper che praticamente mi stava c'è quella truma che mi faceva quel ticchettio per dire che era finito il gas e niente regà vabbè dai è nata basta che abbiamo cambiato dai cose che succedono non so se lo vedete c'è quella fiammella dentro la stufa vuol dire che è accesa suono caratteristico che sembrano i buzela da lontano ma non è vero è una stufa sono rientrato dentro al camper che praticamente dentro c'erano 8 gradi 8 e fuori stiamo a 1 barra 2 cambia la bombola è roba da un attimo adesso lo sbaglio che non ho fatto che ho fatto è stato quello che non controllava la bombola però raga fortunatamente c'è una monartata di ricambio perciò è andata così dai pure stavolta stavamo cavata raga io vi saluto grazie ancora della visione e grazie che mi avete fatto compagnia e alla prossima sventura no avventura alla prossima sventura vabbè bella regà grazie a tutti